Con il termine fascismo possiamo intendere in generale un periodo storico, quel periodo che va dal 1922 al 1945 in Italia, oppure possiamo intendere il fascismo come movimento o come regime, il fascismo movimento che è quello che va dal 1919 fino al 1925 e il fascismo regime dal 1925 fino al 1943. Questa suddivisione in due fasi del fascismo è stata fatta da Renzo De Felice, il quale sicuramente il più autorevole tra gli storici italiani del Novecento che si sono occupati del fascismo, ha appunto diviso questo periodo storico in due momenti diversi, distinguendoli tra loro anche molto dal punto di vista ideologico e di intenti e di politica in generale. Quindi il fascismo definito come un movimento politico o come un partito politico, se parliamo del partito nazionale fascista, oppure come regime. Quindi ci sono vari significati della parola fascismo, quel regime dittatoriale che si afferma in Italia tra il 1925 e il 1943. Ma ancora più in generale possiamo definire il fascismo come un fenomeno, un fenomeno, diciamo un fenomeno di massa, ma un fenomeno ad ampio spettro, ad ampio raggio, un fenomeno ideologico, politico, culturale, sociale, economico, che ha interessato appunto la storia d'Italia tra le due guerre mondiali, in linea di massima. Però vogliamo fare due veloci chiarificazioni prima di entrare nel merito della storia dell'Italia fascista, come recita appunto il nostro capitolo. La prima chiarificazione è che il fenomeno del fascismo, contrariamente a quello che a volte si può ritenere non è stato un fenomeno diciamo per così dire monolitico o univoco, cioè chiuso in un'unica interpretazione, ovvero è stato un fenomeno che comprendeva al suo interno varie anime diverse, anime che andavano da un'estrema sinistra fascista comunque, ma una sinistra sindacalista rivoluzionaria, dimatrice socialista, per poi attraversare anche un'anima più liberale, più cattolica, per finire poi ad un'anima invece più, come dire, di destra, di destra fascista, cioè nazionalista o monarchica o comunque più autoritaria. Ecco, per cui anche se si tratta comunque di un regime che ha il suo, diciamo, la vocazione autoritaria in generale, ma in realtà si trattò, poi lo vedremo, insomma la differenza la capiremo, un regime totalitario e non autoritario, però l'elemento dell'autoritarismo non impedisce di comunque descrivere questo fenomeno come un fenomeno composito al suo interno e questo ha a che fare anche proprio con le origini del termine fascismo, perché la parola viene appunto dal fascio, il fascio littorio era questo simbolo dell'antica Roma, il fascio era un insieme di appunto spighe di grano, un fascio di spighe di grano con un'ascia al centro tenute insieme da questa sorta di filo, di laccio che le univa, ecco, questo simbolo che era il simbolo del potere esecutivo già ai tempi della Roma monarchica è interpretato da Benito Mussolini, il fondatore del fascismo, come se appunto questo fenomeno sia un insieme di anime diverse, le varie spighe di grano, tenute insieme da questo tra virgolette laccio che sarebbe appunto Mussolini, quindi Mussolini è stato l'uomo, il politico che ha saputo tenere insieme varie anime e questo gli ha permesso anche di far confluire all'interno del fascismo, come abbiamo visto poi parlando della storia del primo dopoguerra in Italia, diciamo molte correnti politiche, forze che in realtà facevano parte dello Stato liberale, come appunto i cattolici, i liberali stessi, ma poi anche i nazionalisti, gli irredentisti, eccetera, certo non le forze cosiddette di sinistra, però la cosiddetta sinistra fascista era costituita da elementi che provenivano appunto dal sindacalismo rivoluzionario e che poi anche dopo la fine del fascismo, perché poi dobbiamo ricordare che non è stato un fenomeno così lungo nella storia, perché è durato comunque vent'anni, però alcuni di loro poi sarebbero passati anche al partito comunista e quindi ci sono state insomma varie dinamiche interne a questo partito, vogliamo dire subito, questa è la prima chiarificazione che hanno appunto caratterizzato questo fenomeno. L'altra chiarificazione è che appunto il fascismo non è stato un fenomeno univoco nemmeno dal punto di vista delle fasi, abbiamo già anticipato la distinzione di De Felice tra movimento e regime e rivediamo appunto che il fascismo può essere suddiviso in quattro fasi diverse. La prima fase è quella che abbiamo già raccontato nella scorsa lezione, cioè quella definita i fasci di combattimento. Stiamo parlando del cosiddetto biennio rosso che era il 19 e il 20 e poi quell'altro biennio tra il 21 e il 22 che invece non è più biennio rosso ma è il periodo in cui appunto Benito Mussolini grazie anche alla sua abilità di uomo politico di compromesso riesce a ottenere l'appoggio della borghesia, della monarchia e riesce attraverso la marcia su Roma appunto a ottenere dal re l'incarico di formare un nuovo governo. Quindi abbiamo una seconda fase che è quella di cui parleremo adesso che è la fase del cosiddetto fascismo repubblicano che è un governo di coalizione che va dal 30 ottobre 22 al 3 gennaio del 1925. Ora il fascismo appunto è diviso in quattro fasi perché dopo queste prime due fasi ci sarà la fase dello stato semi totalitario dal 25 vediamo al 43, poi ci sarà quell'ultima fase del fascismo che a volte viene un po' dimenticata che è la fase del cosiddetto fascismo repubblicano che è comunque una fase drammatica di storia d'Italia perché avviene durante la seconda guerra mondiale che va dal 43 al 45, ne parleremo poi più avanti. Quindi ripartiamo appunto dal 30 ottobre 1922 cioè dal momento in cui due giorni dopo la marcia su Roma il re Vittorio Emanuele III incarica Mussolini di formare un nuovo governo e quindi inizia la seconda fase del fascismo ovvero la fase che chiamiamo governo di coalizione. Perché? Perché non è certamente un governo fascista nel senso che è guidato da un deputato fascista come Mussolini ma che proprio in sintonia con quel discorso che facevamo prima perlomeno in una prima fase perché poi ci sarà proprio quest'intento di creare una coalizione con per esempio nazionalisti liberali e popolari per formare un governo diremmo tra virgolette multicolore. Poi alla fine di questa fase che dura soltanto tre anni tutte queste forze diverse fra loro che contribuivano a formare questo governo di coalizione confluiranno poi nel fascismo inteso come partito fascista cioè partito che raccoglie tutte quante queste forze. Allora abbiamo già avuto modo di dire come nel dicembre del 1922 già appena nato questo governo di coalizione sono nati il gran consiglio del fascismo questo organo di raccordo fra il partito e il governo e la milizia volontaria per la sicurezza nazionale cioè questa struttura militare questo appunto esercito inquadrato per regolamentare le squadre di camicie nere e quindi anche per controllare la violenza fascista. Ma soprattutto diciamo che il 1923 che è l'anno appunto il primo anno si può dire di governo Mussolini vengono introdotte già subito tre importanti riforme. Una delle tre sarà poi importantissima. La prima delle riforme è la riforma elettorale maggioritaria che prende il nome del deputato Acerbo, Giacomo Acerbo. Noi sappiamo che fino a quel momento l'Italia aveva come legge elettorale una legge proporzionale. L'intento di Mussolini è quello di avere un governo più forte e quindi di portare la legge elettorale da proporzionale a maggioritaria in maniera tale che il partito che avessi ottenuto più voti potesse avere una forza maggiore in Parlamento. Questo era il suo intento, cioè creare un governo forte. Quindi fin dall'inizio l'ideologia del fascismo si fonda appunto sul cercare di limitare i poteri del Parlamento, combattere quello che per loro era il parlamentarismo corruttore della vecchia Italia liberale di Giolitti eccetera e invece creare un governo forte e stabile. Quindi la prima riforma è la riforma elettorale, la riforma Acerbo. Poi c'è la riforma più importante di tutte, la riforma della scuola realizzata dal ministro dell'istruzione di quel governo di coalizione che era Giovanni Gentile, il filosofo del neo-idealismo di cui poi parleremo diffusamente a proposito della politica culturale del fascismo. Quindi la riforma gentile della scuola, subito nel 1923. E infine, sempre nel 1923, una riforma economica, la riforma economica liberista promossa dal ministro delle finanze De Stefani. Ora, questa riforma liberista porterà al pareggio del bilancio, ma certamente non è una riforma definitiva del fascismo, proprio perché essendo liberista non era certamente in sintonia con quelle che erano le direttive del fascismo iniziali. Direttive, cioè l'ideologia iniziale, come abbiamo detto, del manifesto di Sansepolcro era un'idea tutt'altro che liberista, perché il liberismo era comunque una politica che andava anche a vantaggio di una certa borghesia capitalistica. Però Mussolini deve ancora cercare di mantenere l'appoggio con i poteri economici forti e poi comunque intanto risolvere i problemi del bilancio. Questa riforma economica porterà subito al pareggio del bilancio. Certo è che questa riforma caratterizza solo una prima fase dell'economia del fascismo, ma anche di questo poi riparleremo a proposito della politica economica del fascismo. Quella che dobbiamo tenere presente adesso di queste tre riforme è la riforma elettorale, la legge acerbo, perché porterà poi a qualcosa di importante l'anno successivo. Vediamo questo schema che ci dice più in sintesi il fascismo al potere, nella foto vediamo proprio l'immagine del Gran Consiglio del Fascismo, con Mussolini che presiede questo Gran Consiglio e tutti i cosiddetti gerarchi fascisti, molti dei quali erano anche ministri, che costituiscono questo Gran Consiglio. Giunto al governo Mussolini collabora con i liberali, ma allo stesso tempo delegittima e svuota di potere il Parlamento. Questo è il suo intento. Come avevamo detto a proposito della politica mussoliniana negli anni del biennio rosso della marcia su Roma, Mussolini non è un rivoluzionario di carriera come Lenin, ma Mussolini entra nel sistema e lo delegittima dall'interno. Nascono due nuove istituzioni, il Gran Consiglio del Fascismo, che vediamo nella foto, che definisce le linee di guida del governo e la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che dà un riconoscimento giuridico alle squadre d'azione. Nel 1924 vengono indette nuove elezioni. I fascisti vincono le elezioni del 24, il deputato socialista Giacomo Matteotti denuncia in Parlamento violenze e brogli. Viene rapito e ucciso. Questo, come vediamo, è il delitto Matteotti, che vediamo qui nella foto. Ci sono in seguito a questo delitto proteste dell'opposizione, che vengono chiamate secessione dell'Aventino. Mussolini è attaccato sia dai moderati sia dai fascisti radicali. Come vedremo sarà un momento veramente critico per Mussolini, ma nel gennaio del 1925 si assume la piena responsabilità, qui si dice dell'omicidio, diciamo la responsabilità di tutto quello che è stato il fascismo fino a quel momento. Poi leggeremo dei passi di quel discorso perché è un momento veramente importante, perché segna il passaggio dal fascismo movimento, come abbiamo detto, al fascismo regime. Cioè da uno Stato liberale che è caratterizzato da un governo di coalizione ad una dittatura a viso aperto, come si suol dire, cioè una dittatura a partito unico. Vediamo quindi un po' più nel dettaglio quello che avviene in questo 1924. Ad aprile vengono indette queste elezioni per il nuovo Parlamento e c'è una vittoria schiacciante di quello che veniva chiamato tra virgolette il listone, cioè una lista molto grande che raggruppava una coalizione tra partito nazionale fascista, quindi i fascisti, partito liberale e altri partiti minori. Ora, noi sappiamo che i liberali già avevano fatto il famoso patto Gentiloni con Giolitti nel 1913 come alleanza antisocialista, quindi questo discorso di un partito liberale che cerca alleanze per contrastare la crescita dei movimenti di massa, soprattutto marxisti, il socialismo o il comunismo. Quindi ricordiamo ad esempio anche il blocco nazionale, sempre con Giolitti nel 1921, che vedeva l'alleanza tra liberali e fascisti. Quindi questo faceva anche interpretare il fascismo come una forma di liberalismo da parte di una certa ottica marxista e socialista. Quindi questo listone ottiene una vittoria schiacciante con addirittura 374 seggi in Parlamento. Questo vuol dire che le opposizioni vengono veramente schiacciate, rimangono minima componente parlamentare che non aveva più forza politica di azione, non poteva più contrastare. Si trattava comunque di una vittoria di Mussolini sul piano proprio, ancora una volta, dell'astuzia politica, cioè una legge elettorale maggioritaria insieme a questo listone che permette a Mussolini di stravincere in Parlamento. Ora però Giacomo Matteotti subito dopo tenne un discorso alla Camera denunciando presunti brogli elettorali e violenze come clima di intimidazioni e violenze e come vediamo, insomma, come testimoniato anche dalle cronache, c'erano ancora violenze diciamo anche da entrambe le parti nel 1924, non erano ancora finite quelle violenze tipiche del biennio rosso del periodo dello squadrismo. Fino a che il 10 giugno Matteotti viene rapito e ucciso. Ora non si scopre subito chi è stato a rapire e uccidere Mussolini, poi si faranno delle indagini e si scoprirà che furono dei fascisti estremi che appartenevano poi alla polizia segreta, la cosiddetta polizia segreta fascista che già stava iniziando a nascere ma in realtà non era ancora qualcosa di ufficiale, lo vedremo soltanto l'anno successivo verrà ufficializzata la nascita di una polizia segreta fascista. In ogni caso questo omicidio Matteotti non viene subito scoperto, non vengono scoperti responsabili, addirittura il 12 settembre verrà ucciso a Roma un deputato fascista Armando Casalini da parte di un comunista che lo riteneva responsabile dell'omicidio Matteotti, in realtà poi si scoprirà che non era lui responsabile ed erano stati altri. Tuttavia in seguito a questa situazione Mussolini è davvero in crisi, come abbiamo letto prima viene criticato da tutti i lati e soprattutto c'è questa secessione sull'Aventino, cioè il rifiuto da parte delle opposizioni di partecipare ai lavori parlamentari. Si tratta di buona parte dei partiti di opposizione, che sono appunto il Partito Socialista, Socialista Unitario, Comunista, circa 130 deputati si rifiutano di partecipare ai lavori parlamentari e questa forma di protesta viene ricordata nella storia come secessione sull'Aventino per ricordare l'episodio dell'inizio dell'età della Roma repubblicana nel 494 a.C. quando la plebe si rifiutò di lavorare ritirandosi sul Monte Aventino. In quell'occasione è ricordato il famoso apologo di Menenio Agrippa, il console che si rivolse alla plebe dicendo il famoso discorso della metafora del corpo umano, delle braccia e dello stomaco. La plebe rappresentava le braccia che servivano per nutrire lo stomaco che era poi i patrizi, però lo stomaco a sua volta poteva far vivere le braccia, cioè erano due organi che dovevano collaborare fra loro e quindi lo Stato doveva comunque vivere di una collaborazione tra braccia e stomaco, cioè tra plebei e patrizi. Ecco, questo era il famoso discorso apologo di Menenio Agrippa. Certo Mussolini terrà un discorso ben diverso da quello del console romano. Perché? Perché in seguito a questa situazione di crisi il re non destituisce Mussolini, forse avrebbe potuto farlo. Diciamo che Mussolini si trova in una situazione critica che però lui riesce sempre a volgere a suo vantaggio. Perché? Perché il 3 gennaio del 1925 tiene un discorso molto acceso alla Camera con il quale si assume la responsabilità morale e politica di tutto quello che è stato il fascismo fino a quel momento. Questo poi comporterà la cosiddetta svolta autoritaria. Dunque possiamo anche provare a leggere qualcosa, diciamo, qualche passo di questo discorso. Anzitutto diciamo che questo discorso viene generalmente messo a confronto con il discorso del novembre del 22, che veniva chiamato quel primo discorso quando Mussolini nel 22, sappiamo che il 30 ottobre, ottiene l'incarico da parte del re di guidare il nuovo governo. E in quell'occasione, un mese dopo, a novembre, lui tenne un discorso che è famoso nella storia come il discorso del bivacco. Perché? Perché lui in quel discorso disse mi sono rifiutato di stravincere, potevo stravincere, potevo fare di questa aula sorda e grigia un bivacco di manipoli, potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti, potevo ma non ho almeno in questo primo tempo voluto. Perché questo discorso? Questo ci fa capire come Mussolini, appena divenuto primo ministro, ma siamo a pochi giorni dalla marcia su Roma, quindi anche per capire il clima acceso che si sta vivendo sia nell'Italia, nelle strade, nelle piazze, ma anche dentro il Parlamento. Quindi Mussolini vuole sottolineare come il fatto di aver creato un governo di coalizione sia stata una sua scelta moderata. Mettiamo sempre in parallelo il discorso italiano con quello sovietico, anche rispetto ad una Unione Sovietica in cui proprio in quel momento stava nascendo l'Unione Sovietica e quindi l'esperienza di Lenin era l'esperienza di colui che aveva preso il potere in maniera drastica, violenta e attraverso la forza delle armi. Quindi questo era il discorso del bivacco del 22, invece a confronto un discorso sempre acceso è quello del 3 gennaio del 25, discorso con cui ha inizio la dittatura. Lui addirittura inizia il discorso citando l'articolo 47 dello Statuto Albertino che dice che la Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i ministri del re e di tradurli dinanzi all'alta corte di giustizia. Quindi lui addirittura sfida il Parlamento a accusare il ministro, proprio perché lui veniva accusato di questo delitto Matteotti e quindi c'è veramente un clima molto acceso in Italia, in quel fine 24 e inizio 25. E poi prosegue Mussolini dicendo che si è detto che io avrei fondato una cieca, sappiamo che la cieca è la polizia segreta russa e lui risponde dove, in che modo, nessuno potrebbe dirlo. Se io avessi fondato una cieca l'avrei fondata seguendo i criteri che ho sempre posto a presidio di quella violenza che non può essere espulsa dalla storia. E qui lui continua dicendo che la violenza per essere risolutiva deve essere chirurgica, intelligente, cavalleresca. Invece i gesti di questa sedicente cieca sono stati inintelligenti, incomposti e stupidi. Quindi vediamo che c'è sempre questa contrapposizione, cioè lo spirito anticomunista c'è comunque già dagli inizi del fascismo di Mussolini. E poi più avanti abbiamo le parole decisive appunto in cui lui dice, vediamo, leggiamo soltanto il momento decisivo di quel discorso che ci fa capire in che modo cambia poi la storia d'Italia. Io continuo nel mio sforzo di normalizzazione e di normalità, reprimo l'illegalismo. Quindi lui continua a dire che non cerca la violenza proprio per spiegare che non aveva senso che lui ordinasse l'omicidio Matteotti. Questo possiamo anche dirlo a rigor di logica che un primo ministro che desse l'ordine di uccidere un deputato che pochi giorni prima lo aveva accusato apertamente in Parlamento sarebbe un gesto politicamente molto sciocco che effettivamente molti storici hanno considerato comunque impensabile per Mussolini perché sarebbe stata una mossa certamente non sicuramente politica o diplomatica ma soltanto una mossa in cui è chiaro che far uccidere uno che ti ha appena accusato significa far cadere di te subito i sospetti. Quindi veniamo alla presa l'assunzione di responsabilità. Io dichiaro al cospetto di questa assemblea che io assumo io solo la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. E quindi io sono il responsabile del fascismo, questo vuole dire. Con questo Mussolini diventa lui l'uomo di potere, cioè è come se Mussolini stesse dicendo sono io il vero capo del fascismo, sono io che a questo punto prendo in mano il potere e che prendo in mano lo Stato. Il discorso continua e poi si conclude dicendo appunto voi avete creduto che il fascismo fosse finito perché io lo comprimevo, che fosse morto perché io lo castigavo, ma se io, questa è la frase significativa, mettessi la centesima parte dell'energia che ho messo a comprimerlo, a scatenarlo, voi vedreste allora. Qui sembrerebbe quasi una minaccia di Mussolini che dice guardate che io in realtà l'ho compresso il fascismo e quindi fa riferimento a questa attività, abilità politica di Mussolini di cercare di tenere ferme le violenze fasciste ma nello stesso tempo mantenere acceso l'entusiasmo fascista. Però poi dice subito dopo che non ci sarà bisogno di questo, quindi non ci sarà bisogno di scatenare il fascismo perché il governo è abbastanza forte per stroncare in pieno definitivamente la sedizione dell'Aventino. Qui Mussolini dice esplicitamente che la secessione dell'Aventino è un'azione illegale, un'azione incostituzionale di fronte alla quale poi Mussolini deciderà, proprio a causa di questa sedizione, di dichiarare fuori legge i partiti dell'opposizione, proprio perché si sono resi colpevoli di un'azione illegale. L'Italia, o signori, vuole la pace, vuole la tranquillità, vuole la calma laboriosa. Noi questa tranquillità, questa calma laboriosa gliela daremo con l'amore se è possibile e con la forza se sarà necessario. Voi state certi che nelle 48 ore successive a questo mio discorso la situazione sarà chiarita su tutta l'area. Tutti sappiamo che ciò che ho in animo non è capriccio di persona, non è libidine di governo, non è passione ignobile, ma è soltanto amore sconfinato e possente per la patria. Qui si conclude con queste parole il discorso altisonante, se vogliamo, di Mussolini, ma che rappresenta appunto l'inizio della terza fase, quella fase che abbiamo definito la fase dello stato semitotalitario. E allora vediamo da cosa è caratterizzato questo passaggio tra il 24 e il 25, cioè il passaggio tra il 24 e il 25 è il momento di crisi, ma tra il 25 e il 26 noi abbiamo un biennio di leggi che verranno chiamate, come leggiamo qui, le leggi fascistissime che faranno passare lo stato liberale da stato democratico, stato di coalizione, ad uno stato democratico in senso totalitario, in senso dittatoriale. Vediamo. Allora, anzitutto vediamo il 2 ottobre del 25, questo è un avvenimento che poi riprenderemo a proposito della politica economica del fascismo. Viene firmato il patto di Palazzo Vidoni a Roma, che è un accordo tra la Confindustria e la Confederazione Fascista delle Corporazioni. Quindi una sorta di accordo che è premessa alla Carta del Lavoro del 21 aprile del 1927, che sarà poi una sorta di inizio ufficiale di quella che sarà l'economia corporativa del fascismo. Ne parleremo poi quando tratteremo dell'economia, del progetto economico fascista. Quindi diciamo che questo accordo tra Confindustria e Confederazione delle Corporazioni è teso a sostituire i sindacati fascisti con le corporazioni. Però non annulla ancora i sindacati fascisti, questo diciamolo. Cioè è una sorta di anticipazione di un progetto economico che poi verrà però realizzato, in realtà non verrà mai pienamente realizzato, ma che verrà messo in atto almeno nelle sue linee programmatiche iniziali solo tra la fine degli anni 20 e gli inizi degli anni 30. Vediamo quindi in sintesi quali sono le leggi fascistissime. in instaurazione di una vera e propria dittatura nel 25-26. Il potere legislativo passa al governo, non esclusivamente, qui diciamo è molto sintetico, che si rende autonomo dal Parlamento. I sindaci vengono sostituiti da podestà nominati dal governo. Sono abolite le libertà di espressione, di associazione, il diritto di sciopero e di serrata, come vedremo, è reintrodotta la pena di morte. Vediamo un po' più nel dettaglio le leggi cosiddette fascistissime. Sono leggi che il governo Mussolini fa approvare, quindi tra il 25 e il 26, e che tendono all'accentramento del potere. Anzitutto la legge contro le associazioni segrete, quindi la massoneria, è l'introduzione del capo del governo. Fino a quel momento il primo ministro era chiamato presidente del consiglio. Con le leggi fascistissime si introduce proprio l'espressione capo del governo, che fa capire l'importanza e la centralità del primo ministro, che ha sia il governo, forti poteri legislativi, quindi non tutti i poteri legislativi sono al governo, però il governo ha poteri legislativi. Poi organizzazione e funzionamento delle amministrazioni statali, quindi sempre in mano al governo, e nomina dei podestà in luogo dei sindaci. Quindi mentre i sindaci venivano eletti nei vari comuni, come avviene ancora oggi, i podestà vengono eletti dall'alto, dal governo. Questo significa appunto mettere anche nelle province periferiche uomini strettamente legati a Mussolini, al governo, e quindi poter controllare le periferie, sempre in funzione di un accentramento del potere. Poi vengono emanate delle leggi di pubblica sicurezza, venivano chiamate così, che prevedevano il controllo della stampa, quindi evidentemente la repressione del dissenso della stampa antifascista, il confino di polizia, che era appunto questa misura che prevedeva che coloro che fossero responsabili di attività antifasciste e contro il governo, fossero mandati in zone periferiche dell'Italia, o al confine con paesi stranieri, oppure sulle isole. Questa era una misura proprio contro l'opposizione. E poi la nascita dell'Obra, che probabilmente voleva dire Organizzazione per la vigilanza e repressione dell'antifascismo, ma non è sicuro, è un'ipotesi. Quindi l'Obra che cos'era? La polizia politica. Quella che dicevamo prima, che era una polizia segreta che agiva già da un po' di tempo, ma in realtà viene proprio istituita ufficialmente nel 1925. E poi un tribunale speciale per la difesa dello Stato. Quindi vediamo che ci sono delle misure eccezionali, poi c'è il divieto di sciopero e di serrata, e poi vengono riconosciute solo le confederazioni sindacali fasciste. Abbiamo detto appunto che non muoiono i sindacati, però vengono dichiarati illegittimi i sindacati non fascisti, come per esempio la CGL. Oltre a questo, quello che avevamo detto prima, dal momento che la secessione del Lamentino veniva considerata come un'attività illegale, un'azione anticostituzionale, i partiti di opposizione vengono sciolti. E quindi rimane soltanto il partito nazionale fascista, il partito unico, nel quale confluiscono buona parte dei liberali, di altre forze politiche moderate, anche parte dei popolari, perché poi, come vedremo le prossime volte, il fascismo cercherà anche di ottenere l'appoggio del mondo cattolico in Italia. Certamente non fanno parte, se non alcune rare eccezioni, esponenti dei partiti socialista e comunista, però diciamo che questi partiti socialisti e comunisti continueranno in qualche misura la loro attività, non di opposizione ufficiale, perché non era possibile in un regime dittatoriale, ma di attività di opposizione clandestina, soprattutto all'estero. Questo schema ci riassume bene quella che era l'organizzazione dello Stato fascista. Anzitutto ci fa capire che si tratta comunque del Regno d'Italia. Come vedete, al vertice dello Stato c'è la monarchia. Ricordiamo sempre questa cosa che sembra molto banale, ma a volte si dimentica. Il capo dello Stato è sempre Vittorio Emanuele III, per cui non confondiamoci, Mussolini è solo capo del governo. Infatti la monarchia affida il potere legislativo al Senato di nomina reggia, quindi abbiamo comunque un Senato di nomina reggia, e poi una Camera dei Deputati che è appunto, diciamo, nominata dal Gran Consiglio, ecco questo lo diciamo subito, ma che poi, come vediamo qui nello schema, nel 1939 prenderà il nome di Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che controlla le corporazioni. Quindi è una cosa che riguarda il periodo successivo del fascismo. Il potere esecutivo al governo guidato da Mussolini, che controlla l'esercito, i prefetti e i podestà. Ecco, i prefetti sono altre figure di riferimento che servono proprio per controllare le periferie e che il Mussolini istituisce anche, poi ne parleremo, per avere un controllo della politica da parte del governo, perché lui è capo del governo, e per impedire al Partito Nazionale Fascista, con i cosiddetti federali, di prevalere sul governo. Quindi ci sarà poi anche una sorta di attrito tra governo e partito, tra Stato e partito, ma ne parleremo le prossime volte. Poi il potere giudiziario al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e alla magistratura ordinaria. Abbiamo visto che viene appunto istituito questo Tribunale Speciale e qual è lo scopo? Uno dei punti centrali del totalitarismo, cioè la repressione del dissenso. Vengono sciolti tutti i partiti, abbiamo detto, tranne quello fascista, agli elettori viene sottoposta un'unica lista, la polizia politica, Ovra, e il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato perseguono gli oppositori politici. Molti vengono incarcerati o inviati al confino, altri trovano rifugio all'estero. Ecco che dunque con queste misure eccezionali stiamo descrivendo il passaggio dalla seconda fase del governo di coalizione alla terza fase dello Stato, come vedremo meglio, semi-totalitario. Quindi la prossima volta riprenderemo il discorso a partire dal concetto di totalitarismo e dai suoi elementi fondamentali. e dai suoi elementi fondamentali. E dai suoi elementi fondamentali. Grazie!